In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sielo dato Gesù Cristo. Maria Sede Sapientiae, ora Pronobis. Carissimi fedeli, facciamo una visita a questa piccola cappella che è nella mia casa, dove è custodito il Santissimo Sacramento nel Tabernacolo. Sielo dato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria Patris et Filii e Spiritus Santo. Sicuterat in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen. Sielo dato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Salutiamo anche Maria, che veglia su di noi. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Sacro cuore di Gesù, confido in te. Preghiamo un attimo in silenzio per tutte le persone che ci sono care, per le persone ammalate, per tutti quelli che soffrono. Preghiamo anche per il Santo Padre, Benedetto XVI. Sanctissimo, Pater nostro, qui es in cielis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nostimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nosa malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio e Spiritui Santo, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Per i nostri cari defunti, requiem eternam dona eis Domine, et lux perpetua luce a teis, requiescant in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Carissimi fedeli, oggi volevo annunciarvi una nuova iniziativa che sto prendendo, ed è quella di fare con voi il catechismo per i bambini. Per un catechismo base, io ho raccolto in questi anni, in cui prendevo coscienza del grave inganno, in cui la Chiesa era caduta, soprattutto dal punto di vista della catechesi e della dottrina, ho raccolto questi catechismi, che forse alcuni di voi ricordano. Io da bambino ho usato questo, in prima elementare. Non proprio questo, perché questa è una ristampa, una ristampa della rivista 30 giorni, che però è esaurita. Questo catechismo è stato pubblicato negli anni 50. Questo è il secondo volume, per la seconda elementare, questo è il primo, per la prima. Anche questa è la ristampa, curata dalla rivista 30 giorni. La prima edizione del 55, la ristampa, risale al 2001, ma non si trovano più. Mentre si trovano questi catechismi, editi dal centro librario Sodalizium, che riproducono praticamente i catechismi per bambini degli anni 50, che hanno delle bellissime illustrazioni, ma hanno soprattutto il pregio di tradurre per i bambini, per i fanciulli, quello che è il catechismo di San Pio X, che rimane, secondo il mio punto di vista, insuperato. Non è stato più superato, quindi è il massimo, secondo me, secondo anche molte persone. Questo catechismo, edito in questi anni dal centro librario Sodalizium, è abbinato a un quaderno attivo, dove i bambini possono dipingere delle figure e rispondere alle domande, a delle domande. Volevo ricordarvi soltanto questo, in questa edizione, che però non è in commercio, non si trova, che mi è stata regalata, a pagina 4 si dice che c'è un'indulgenza particolare, fin dal 1500, perché cita il papi Paolo V, ci sono indulgenze applicate a coloro che studiano il catechismo o lo insegnano. Sono concesse a coloro che almeno due volte al mese, per circa mezz'ora e non meno di venti minuti, insegnano o imparano la dottrina cristiana. Le seguenti indulgenze. Una indulgenza plenaria, che vuol dire lo sconto totale della pena per i nostri peccati, due volte al mese, in giorni di propria scelta, se confessati e comunicati, visiteranno una chiesa o un pubblico oratorio e pregheranno secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Noi praticamente l'abbiamo fatto. Non potendo entrare nelle chiese, siete entrati nella mia cappella, nella nostra cappella e abbiamo visitato il Santissimo Sacramento. Non è possibile confessarci, allora chiederemo perdono dei nostri peccati. Non è possibile comunicarci, allora faremo la comunione spirituale e riceveremo questa indulgenza. Poi c'è un'indulgenza parziale da lucrarsi, vuol dire che si può ottenere con un cuore almeno contrito ogni volta che insegneremo o impareremo la dottrina cristiana per lo spazio di tempo sopra indicato, cioè almeno 20 minuti. Ecco poi in questi catechismi per bambini degli anni 50, ecco nel frontespizio è scritto così, guardate che belle illustrazioni, la Madonna è la mamma di Gesù ed è pure la nostra buona mamma del cielo. Ella vuole che tutti i bambini conoscano Gesù, siano buoni come era buono Gesù bambino. Lo amino e lo preghino ogni giorno per ottenere la sua grazia. Sai come devi fare per diventare un bambino buono che conosce Gesù, gli vuole bene e lo prega? Devi studiare la dottrina e tenere bene questo libretto. Ci sono tante parole e tante figure che ti aiutano a conoscere Gesù, a fare come ha fatto Gesù, ad amare Gesù. Ecco con questo incontro volevo semplicemente annunciarvi che inizierò dalla prossima settimana a Dio piacendo questa serie di incontri per i bambini in un catechismo base, la dottrina cristiana corso base, diciamo così, affinché i bambini non solo del piccolo resto ma anche di quelli che dovessero collegarsi con queste trasmissioni possano scoprire ecco i tesori della nostra dottrina. E vi ricordo per ultimo di iscrivervi al mio canale YouTube per poter avere sempre le segnalazioni dei video. Il mio canale su YouTube si chiama Don Enrico Maria Roncaglia ed ora salutiamo di nuovo Gesù presente nel Santissimo Sacramento sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen